E rottura fu, con Stefano ovviamente. Il Partito Democratico è atteso da scelte importanti ma è deciso a compierle. Nell'incontro con il segretario regionale Sergio Blasi e con Gilda Binetti, commissario nominato per trovare una convergenza ampia sul nome del prossimo segretario provinciale, la mozione Bersani riceve il placet dei vertici del PD rispetto al proprio documento programmatico. Tre i punti salienti, imprescindibilità delle primarie per l'individuazione del prossimo candidato sindaco, unitarietà in seno al congresso, coesione sulle scelte fondamentali. C'era lo statuto maggiore del partito alla riunione convocata nella sede dell'ex Margherita di via Principe Amedeo, facce distese e sì perché l'accordo con la mozione Franceschini sembra il sotteso non detto rispetto alla riunione odierna e se l'iniziativa è di un'area che rappresenta i due terzi del partito è per pura galanteria. Perlomeno così dice qualche ben informato anche se c'è la solita gola profonda pronta a giurare che giorni or sono nelle stesse stanze e volavano gli stracci. Congresso subito o rinviato si ne die, questo è il nodo gordiano ma ciò che dal documento emergerebbe con più rilevanza è la volontà di voltare pagina a livello cittadino. Il PD uscito sconfitto dalle scorse elezioni rientrato in maggioranza con l'obiettivo di ricompattare il centrosinistra ha ora ambizioni di governo. Congresso subito o rinviato? Congresso subito, l'ho già detto un sacco di volte, non c'è niente da rinviare ormai. Primarie per il comune? Le primarie, vedete, è singolare che si chiedono sempre al Partito Democratico, che lo ricordo è l'unico partito che ha nel suo statuto le primarie. Queste naturalmente poi devono essere verificate territorio per territorio ma che per noi sia uno strumento di allargamento della partecipazione dei cittadini nelle scelte, soprattutto quelle dei caratteri monocratici, delle funzioni istituzionali monocratiche, mi sembra che sia un dato per noi acquisito, forse qualche altro partito anche del centrosinistra dovrebbe ragionarci. D'altra parte, come potrebbe oggi il Partito Democratico dire no a primarie quando il centrodestra che sta discutendo se fare o meno le primarie? Quindi mi sembrerebbe abbastanza singolare che le mettessimo in discussione noi, che ribadisco siamo l'unico partito che ce l'ha nel loro statuto. Post scriptum, se primarie dovranno essere, lo saranno anche per i parlamentari.